Ora siamo all'hotel Central Aegis sulla terza strada a San Francisco Molto bello, posto di classe Eh assolutamente, infatti guardate che faccia Era il nostro primo appuntamento della settimana, ieri Perché ieri? Perché oggi, che è martedì Esattamente È stato annunciato il nuovo gioco di Obsidian Che si chiama Tyranny Tyrannia Tyrannia che dovrebbe dare un'idea del tema, di chi sei e cosa fai Però non ne possiamo ancora parlare No, ci è piaciuto Forse stai già dicendo Quanta gioco di Impressions dire che è piaciuto Vabbè, un gioco di Obsidian Non vuol dire che è brutto No, 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 no Ne parleremo esattamente tra una settimana Esattamente Nel frattempo però abbiamo visto Volevamo così provocare dell'invidia Magari avete visto l'annuncio Vi piace la roba di Obsidian Noi l'abbiamo visto